L'oratorio è un posto accogliente dove posso riflettere e confrontarmi con gli altri. È pieno di spunti e nuove attività. È un luogo dove posso incontrare i miei amici anche solo per fare qualche risale. È un posto accogliente via Zaldone e animatori che riescono a rendere ogni incontro più interessante con le loro proposte. Ma l'oratorio ti mette anche alla prova. Devi dare una mano durante le feste di Grest, imparare ad ascoltare e relazionarti con gli altri. L'oratorio è come una grande famiglia. Ti fa crescere perché solo attraverso le relazioni si cresce. Sono Emma, cresciuti in oratorio.